Va beh, fiducia, ma la fiducia nei servizi che dà lo Stato, noi siamo in Sicilia, la Regione, ce l'abbiamo questa fiducia o no? Devo dire ben poca, soprattutto per quanto riguarda il problema della sanità. Ieri abbiamo sentito l'assessore Volo, l'assessora Volo, che ci ha confermato che c'è una cattiva comunicazione, però è la verità che ci mancano 1500 medici e che si stanno facendo dei bandi dove andiamo a chiedere di partecipare a cittadini non italiani, europei, ma anche extracomunitari. Quindi questa è la novità, dobbiamo andare ad attingere ad altre forze perché non ce l'abbiamo i medici da noi. E poi c'è il problema di alcune zone disagiate. Allora, il Presidente della Regione ci comunica che ha studiato un sistema per dare un incentivo a quei medici che vanno a lavorare nelle zone disagiate. Ci sono comuni, io non lo so, magari sarà un posto meraviglioso, ma mi ricordo quando ci vuole ad arrivarci, conoscete Floresta? Floresta è proprio sulla punta della strada che va dall'Etna fino ad arrivare al Mar Tirreno. E lì a 1200 merdo, quando sono, c'è Floresta che è un bellissimo posto, si mangia bellissimo, ma certo sarà un po' disagiato. Allora, il Presidente della Regione ha detto che gli diamo degli incentivi, un'ottima cosa, in questo modo possiamo cercare di risolvere il problema. Spendiamo meno soldi per fare stupidaggini e diamo soldi a chi invece serve ad aiutare a vivere bene nella comunità. Purtroppo la Regione ha, come dicevo prima, anche lei, tanta racina a pezza, soprattutto perché questa storia che ci sono gli assessori, che poi sono anche deputati, che poi quando si va a votare sono impegnati, come è stata sempre una gran polemica questa anche nei comuni, si è trovata l'escamotage del deputato supplente, del consigliere supplente, però devo dirvi che hanno rischiato di fare una cattivissima figura in questi due giorni, anzi se poi oggi hanno ricucito. Per parlare di questo abbiamo chiesto a Peppe Lizio, ma cosa sostiene Peppe Lizio sulla Assemblea regionale? Sentiamo.